Buonasera mister, il risultato oggi non è arrivato ma avete affrontato questa gara molto bene, creato tanto, sapevamo non era semplice. Come giudica, come valuta la prova dei suoi ragazzi? Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra di assoluto valore, al primo tempo abbiamo approcciato bene la gara, potevamo sbloccarla sul rigore e non rigore di Barella, sull'occasione di Lautaro, poi purtroppo abbiamo preso un gol su calcio piazzato che un pochettino ci ha penalizzato però la squadra è sempre rimasta in partita. C'è stata anche l'occasione di dare minutaggi a ragazzi che magari non giocano tanto, anche questo è importante perché si vede un gruppo unito sempre pronto a dare il loro contributo. Assolutamente sì, hanno giocato giocatori che hanno fatto tutti molto bene, mi viene in mente Darmian, Gagliardini, Darmian nel ruolo di terzo, Gaglia, era tanto tempo che era fuori che veniva dall'infortunio, hanno fatto tutti molto bene. Compresi Belanova, Aslani, quindi sono molto soddisfatto. L'obiettivo dell'Inter, lo dice la sua storia, rimanere sempre competitivo sia in Italia che in Europa, quanto era importante centrare questa qualificazione? Era importantissimo, sapevamo che non era semplice per quello che andavamo ad incontrare però i ragazzi sono stati molto bravi, hanno ottenuto una qualificazione meritata sul campo e adesso per quanto riguarda la Champions ci penseremo a febbraio. Ora, sei partite molto impegnative ma questo gruppo come diceva ha mostrato sempre di esserci, qual è stato il vero secreto o la chiave secondo lei? È stato che dopo la partita di andata col Bayern dove avevamo perso abbiamo fatto una serie di partite molto molto buone, intense, siamo riusciti a fare quattro punti con il Barcellona, nello scontro diretto è lì che ci siamo guadagnati la qualificazione. Ultimissima mister, domenica ci aspetta una grande gara, come si affronta? Si affronta con tantissima determinazione e aggressività, sappiamo che ne mancano da tre da qui alla sosta quindi dovremo cercare di affrontare una alla volta nel migliore dei modi. Grazie. 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 Grazie.